ok ragazzi stiamo partendo allora partenza ufficiale sono le 19.50 in realtà era le sette in corte a casa mia però Nicola e Stefano già state dimenticando il sacco a velo quindi subito cosa che cazzo e adesso abbiamo anche le battaglie scariche della macchina fotografica sulla mia spina dorsale è appoggiato un cielo intero lo sconfinato universo che prova a spingermi giù e mi ha mostrato due contrari ha detto ognuno è vero e mi ha lasciato qui da solo senza dirmi di più mi ha messo in mano una spada senza insegnarmi le mosse mi ha messo in guardia dal nemico senza dirmi chi fosse mi ha messo dentro una scuola e ha detto adesso impara ad abbassare lo sguardo e a non avere pietà mi ha dato il fiuto del cane la coda del gatto la corona del re e il cappello del matto mi ha messo in una famiglia e ha detto a fare i tuoi adesso in questo casino prova a capire chi sei però mi ha messo un mio amante dentro al mio cuore che brilla che brilla però hai messo un diamante dentro al mio cuore che brilla che brilla che brilla miagola il ragno scivola le tigre brucano le serpi saltano i cani belano il muro morbido è tutto in ordine è tutto in ordine come stai? bene ma fa freddo o caldo? freschetto 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 loro giustamente tu in giardino che ne so io mi aspetto potrei trovare in San Bernardo invece no loro hanno acquario tropicale fuori così non dici niente ti sembra una cosa normale no perché c'ho il terrore prima quando mi hai chiesto come stavo stavo dicendo benissimo ho detto no è Michele questo non vuole che dico lei mi hai messo in una famiglia e ha detto affari tuoi adesso in questo casino prova a capire chi sei però hai messo un mio amante dentro al mio cuore che brilla che brilla quando lo espongo al sole però hai messo una bomba dentro al mio cuore che è sempre innescata che è pronta per scoppiare mi hai messo in tasca tre carte e ha detto adesso tira quello che viene viene e come gira gira mi hai dato tempo una vita per ritrovare l'uscita mi son distrato a un certo punto non l'ho più cercato sono due scalini anche se sei 900 metri a dettile via siamo a metà strada 66, 67, 68 69, 70, 71, 72, 73, 73 allora sono 266 gradini 266 gradini ecco qua qui abbiamo però un bel panorama non basta la pena il fermo è bellissimo le persone normali prendono una il lupo miagola il ragno scivola le tigri brucano le serpi saltano i cani belano il muro è morbido è tutto in ordine è tutto in ordine è tutto in ordine è tutto in ordine però hai messo un diamante dentro al mio cuore che brilla che brilla quando le spongo al sole però hai messo una bomba dentro al mio cuore che brilla che brilla che brilla che brilla e allora piangi piangi forte ridi ancora più forte così che scoppi di vita così che scacci la morte e guarda sempre in faccia il mondo e non avere paura è giusto che sia con tutta la potenza con tutta la fantasia perché hai messo un diamante dentro al mio cuore che brilla che brilla quando le spongo al sole e hai messo una bomba dentro al mio cuore che è sempre inescata che è pronta per scoppiare però hai messo un diamante dentro al mio cuore che brilla che brilla quando le spongo al sole però hai messo un diamante dentro al mio cuore che brilla che brilla che brilla che brilla pancia di femmina pancia di femmina mani di femmina mani di femmina occhi di femmina occhi di femmina pelle di femmina pelle di femmina e tutti in ordine che brilla che brilla che brilla che brilla che brilla Grazie a tutti.